Microsoft vuole diventare 100% riciclabile entro il 2030 Microsoft ha annunciato di voler raggiungere l'ambizioso obiettivo di zero rifiuti nella produzione e riciclaggio entro il 2030 come parte dell'impegno della salvaguardia ambientale e della sostenibilità iniziato nel 2008 trovate maggiori dettagli all'indirizzo che lascio in descrizione oltre alla pagina di windows blog italia ovviamente notizia più che positiva dai sbizzarriteli nei commenti fatemi sapere la vostra opinione noi ci vediamo ad un prossimo video